Buongiorno, sono Bartolomeo Schirone, docente di selvicoltura e restauro forestale presso l'Università della Tuscia e presidente della Società Italiana di Restauro Forestale. Vorrei richiamare la vostra attenzione su una funzione poco nota eppure importantissima delle piante, sia che esse si trovino in parchi e giardini, sia a maggior ragione se presenti in cenosi forestali. Tutti hanno notato che, quando i cittadini, obbligati a restare in casa per ridurre lo rischio di contagio da coronavirus, hanno avuto la possibilità di uscire, si sono riversati per quanto possibile negli spazi verdi più vicini. Ciò certamente perché un ampio prato o una radura verde tra gli alberi di un parco offrono quella sensazione di libertà che solo i grandi spazi sanno dare. Ciò vale a maggior ragione per il mare. Ma le piante ci inviano un messaggio in più, necessario per la nostra vita. Spesso invito i miei studenti a riflettere sui segnali che percepiscono entrando in un bosco, immaginando addirittura di non aver mai visto prima una foresta. Senza accorgersene, ci si ritrova immersi in una realtà della quale sono tre gli aspetti che vengono immediatamente avvertiti, anche se non altrettanto rapidamente separati tra loro e ricondotti a livelli elementari. Innanzitutto la composizione. Ciascuno di noi non ha bisogno di pensare, come si suol dire, per rendersi conto se ciò che osserva sia composto da oggetti tutti uguali o diversi tra loro per tipologia, cioè forma, colore, profumo, ecc. Con riferimento alla foresta, se, ad esempio, è costituita tutta da abeti, oppure se questi siano accompagnati da fagi, aceri o tassi, per non parlare delle specie robustive ed erbacee. Il secondo aspetto che ci colpisce è la struttura del bosco. Ci accorgiamo istantaneamente se le dimensioni dei singoli elementi che lo compongono, gli alberi, sono uguali tra loro e se la comunità è omogenea. Notiamo, infatti, se vi sono alberi più alti e altri più bassi, fusti dal diametro maggiore o minore, oppure se la densità del popolamento varia da punto a punto o se è distribuito secondo un disegno geometrico. Il terzo aspetto è quello che forse percepiamo per primo, eppure quello che sfugge più facilmente all'osservatore, perché, in effetti, più che osservato è sentito. Si tratta del ritmo. Il più delle volte noi non ci riflettiamo, ma la nostra vita è scandita da ritmi, anzi è un insieme di ritmi. Tutti conosciamo lo ritmo veglia-sonno, collegato all'alternanza della luce del giorno e del buio della notte, così come conosciamo le nostre reazioni fisiche al susseguirsi delle stagioni, ovvero l'energia primaverile-estiva, in opposizione al torpore autunnale-invernale. Meno sappiamo, o siamo consapevoli, degli altri ritmi, che però sono tanti, mensili, annuali, poliennali. Prendiamo ad esempio il ritmo mensile. Certamente è noto il ciclo mestruale delle donne, ma non si va molto oltre. Eppure, recentissima, la conferma definitiva, ottenuta con precise misure geodetiche, eseguite da ricercatori italiani grazie alla costellazione di satelliti delle reti GPS Galileo, dell'effetto dell'attrazione lunisolare sulla crosta terrestre. Sono le cosiddette maree solide che provocano la deformazione della crosta terrestre anche di diversi decimetri, svolgendo un ruolo attivo sulla tettonica delle placche. Ma non sono solo i mari, i laghi, la crosta terrestre, i fluidi del sottosuolo a muoversi con il ritmo delle maree. Le stesse oscillazioni ritmiche interessano i fluidi degli organismi, compreso il corpo umano. Sono le maree interne, che variano con ciclicità diurne e mensili, e influenzano in maniera e misura ancora ignota il nostro comportamento. Solo da pochi anni, infatti, sono cominciati studi sistematici sui bioritmi dell'uomo e sulle periodicità delle sue prestazioni, sulla vulnerabilità alle malattie o sull'efficacia dei farmaci in funzione del momento in cui essi vengono assunti. Studi ancora più recenti riscontrano ritmi circadiani e stagionali nel nostro sistema immunitario, ma anche nella vitalità e aggressività di virus e batteri. L'esistenza di vari ritmi periodici, o quasi periodici, nelle piante è nota invece da tempo. Tutti i vivaisti conoscono, per esempio, le differenze tra specie longidiurne e brevidiurne. Ma direi di più, da sempre gli agricoltori seguono il calendario lunare con maggiore attenzione e profitto rispetto a quello giuliano o gregoriano. Vi è poi una disciplina, la dendrochronologia, fondata non a caso da un astronomo, Elliot Douglas, che studia le variazioni dell'ampiezza degli anelli di accrescimento annuale degli alberi, in funzione delle variabili esterne. Douglas ricercava nei fusti degli alberi i segni della ciclicità ventiduennale delle macchie solari. Ovviamente li trovò, ma emersero anche tante altre periodicità, perché le piante registrano tutto e per tutto si devono intendere i tanti forse infiniti ritmi degli astri, i moti della Terra, della Luna e delle stelle che insieme compongono la musica dell'universo. Qui, ad esempio, mostro i cicli che io stesso ho riscontrato nell'abete bianco penninico. Come si può notare, i cicli isolati che ho isolato sono stati almeno cinque, apparentemente riconducibili tutti a fenomeni solari. Tutto da studiare invece il fenomeno della concordanza o dell'opposizione di fase, ma questo è un altro capitolo. A questo punto, come si collega tutto ciò che sto dicendo con quanto detto all'inizio, la relazione sta nel fatto che è stato appurato che i nostri ritmi o bioritmi sono controllati da oscillatori interni che costituiscono il cosiddetto orologio biologico. Si tratta di un meccanismo impostato sul ciclo circadiano, ossia di 24 ore, che però è un risultato delicatissimo perché deve essere continuamente ricalibrato sui ritmi esterni, altrimenti si sfasa. E a tutti noto infatti il fenomeno del jet lag, oppure ciò che succede a quei ricercatori che, per studiare le reazioni del corpo umano ai viaggi spaziali di un futuro ormai non tanto lontano, vengono confinati volontariamente in grotto in altri luoghi chiusi illuminati artificialmente per lunghi periodi. La stessa cosa succede ai sommergibilisti. Perdono il senso del tempo, come si usa a dire. Ecco perché in tutti questi casi si adottano dei particolari segni a tempo. In altre parole, la connessione tra ritmi interni e cicli naturali si perde con estrema facilità. E la vita moderna, svolta in gran parte in luoghi chiusi e illuminati artificialmente, conduce alla denaturazione dei ritmi biologici. Basti pensare alla sensazione che proviamo quando torniamo all'aperto dopo aver trascorso diverse ore in uno di quei grandi centri commerciali oggi di gran moda, ma che altro non sono se non degli enormi capannoni dove solo la mente filtra la luce naturale, uscendoci sempre di recuperare la nostra vera dimensione. Ecco che le piante, con i loro tanti cicli giornalieri come i fiori della bella di notte che di giorno si chiudono, stagionali come le fioriture, annuali come la riapertura primaverile delle gemme degli alberi decidui, sono il miglior alleato per non perdere il nostro ritmo e il senso della nostra vita. Una ragione di più per conservare le nostre foreste, curare i nostri giardini e piantare ovunque sia possibile nuovi alberi e nuovi arbusti.